NARANONNE La città che sussurrò di Jennifer Elfgren Ci sono dei nuovi amici in cantina, Annette, mi disse la mamma quando mi svegliai. È ora di portargli giù la colazione. Mi fermai in cima alle scale. La cantina mi faceva paura a causa del buio, ma le voci che sussurravano mi dettero coraggio. Arrivati in fondo, entrai nella stanza segreta dove nascondevamo degli ebrei danesi dai nazisti. Una donna e suo figlio sedevano sopra una branda. Io sono Annette, dissi mostrando loro il cestino. La mamma vi ha preparato la colazione. Io sono Carl. Il bambino prese il cestino e diede alla madre una pagnotta e un nuovo sodo. Vi ringraziamo, disse lei. Tornata su, mi sedetti per fare anch'io colazione. Per quanto tempo rimarranno i nostri nuovi amici? Chiesi. Due notti, rispose papà. La terza notte una barca li porterà in Svezia. Finché rimarranno qui, avremo bisogno di più pane, disse la mamma. Dopo colazione, andai dal fornaio. Abbiamo nuovi amici, gli sussurrai. Ne ho messo un po' di più, sussurrò anche lui, mentre mi consegnava un sacchetto pieno. Fai attenzione. Tornando a casa, vidi dei soldati nazisti bussare a una porta dall'altro lato della strada. Nonostante si trovassero nella mia città da molto tempo, ogni volta che li vedevo, avevo un sussurro. Mamma, papà, ci sono dei soldati dall'altra parte della strada, disse appena tornata a casa. La mamma diede tre colpetti sulla porta della cantina per avvisare i nostri amici di stare in assoluto silenzio. Dopo che i soldati se ne furono andati, papà levò lo sguardo verso il cielo nuvoloso. Niente luna stanotte, disse, sarà difficile per i nostri amici trovare il porto al buio. Il giorno dopo portai di nuovo del cibo nella cantina, lasciando che le voci che sussurravano mi guidassero lungo le scale. Questo vi aiuterà a far passare il tempo, disse a Karl, dandogli dei libri. Lui li prese e sorrise. Amo leggere. Mamma, ho bisogno di altri libri, disse appena risalite alle scale. Dopo colazione andai in biblioteca. Abbiamo nuovi amici, sussurrai alla bibliotecaria. Stai attenta, sussurrò anche lei, consegnandomi altri libri. Tornando a casa, vidi i soldati nazisti bussare alla porta dei nostri vicini. Mamma, papà, i soldati sono dei vicini, dissi appena entrati in casa. La mamma diede tre colpetti alla porta della cantina. Dopo che i soldati se ne furono andati, papà osservò il cielo nuvoloso. Niente luna nemmeno stanotte, disse. Forse le nuvole si diraderanno domani. Di nuovo la mattina seguente, lasciai che le voci che sussurravano mi guidassero giù per le scale buie. Quando Carl ha preso il cestino della colazione, un sasso a forma di cuore cade sul pavimento. L'ho trovato con il mio papà l'ultima volta che siamo andati a passeggiare sulla spiaggia. È bellissimo, dissi. Anette, abbiamo bisogno di altre uova, disse papà dopo colazione. Allora mi recai alla fattoria. Abbiamo dei nuovi amici, sussurrai al contadino. Auguragli ogni bene, sussurrò anche lui, consegnandomi delle altre uova. Sulla via del ritorno, scorsi dei soldati nazisti dirigersi verso la nostra casa. Presi una scorciatoia ed entrai dalla porta posteriore. Mamma, papà, i soldati stanno venendo a casa nostra. Non mi risposero. In casa non c'era nessuno. Diedi tre colpetti alla porta della cantina. Poi li sentì bussare forte alla porta d'ingresso. Bum, bum, bum! Aprì uno spiraglio. Abbiamo sentito dire che in questa strada qualcuno nasconde degli ebrei, disse un soldato spalancando la porta. Non ne so nulla, risposi, cercando di non far tremare la voce. Quando li troveremo, arresteremo tutti. Mi avvisò l'altro soldato. Tremando, richiusi la porta. I soldati sono stati qui, dissi, quando mamma e papà tornarono a casa. Stanno cercando degli ebrei nascosti. Brava Annette, disse papà abbracciandomi. I nostri amici devono partire stanotte, anche se è nuvoloso. Ma come facciamo a fargli raggiungere il porto, sane e salvi? Allora pensai a come avesse avuto paura della cantina buia e a come le voci che sussurravano mi avessero guidato lungo le scale. Papà, e se la gente stesse vicina alle porte delle case e sussurrando guidasse i nostri amici fino alla barca? Papà rimase in silenzio. Stava riflettendo. La tua idea potrebbe funzionare, disse. Aiutami a metterla in pratica. Corsi dal fornaio, dalla bibliotecaria, dal contadino. Gli spiegai il nostro piano. Accettarono di aiutarci e di spargere la voce nel villaggio. A mezzanotte, Carl e la sua mamma uscirono dalla cantina. Carl posò nella mia mano il sasso a forma di cuore. Ricordami sempre, Annette. Avvicinai quel piccolo cuore al mio. Dopo che Carl e la sua mamma si immersero nella notte, mi sporsi il più possibile dalla finestra della mia camera. Sentii il nostro vicino sussurrare dalla sua porta. «Di qua!» Stava guidando Carl e la sua mamma verso il porto. «Poi anche il vicino del nostro vicino sussurrò. Di qua!» I sussurri continuarono di vicino in vicino finché Carl e la sua mamma non raggiunsero la barca. Strinsi il sasso nella mia mano e li immaginai mentre camminavano liberi sulla spiaggia in Svezia. Nota dell'autrice A meno di un anno dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la Germania invase la Danimarca. Doveva servire da zona Cuscinetto per proteggere i tedeschi dagli attacchi inglesi. Adolf Hitler voleva anche impossessarsi delle fertili terre del paese. All'inizio i tedeschi consentirono al governo danese di continuare a governare, ma con il passare del tempo i danesi non sopportarono più l'occupazione tedesca e iniziarono a sabotare gli occupanti. Nel 1943, per stroncare la resistenza danese, i nazisti presero il potere. Iniziarono subito a dare la caccia a circa 8.000 ebrei danesi per deportarli nei campi di concentramento. Gli ebrei danesi si nascosero nelle case di privati cittadini, magazzini, fienili, alberghi e chiese. Poi si procurarono delle barche e ingaggiarono dei pescatori perché le iotassero ad attraversare il canale verso la neutrale Svezia. Quasi tutti gli ebrei furono fatti fuggire dalla Danimarca. Circa 1.700 ebrei fuggirono dal piccolo villaggio di pescatori di Ghillelai. In una notte senza luna, gli abitanti del villaggio, dalle soglie delle loro abitazioni, sussurrarono loro la direzione giusta per il porto.